Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video Oggi faremo Che? Oggi faremo un video un po' diverso dal solito Dalle solide recensioni Perché andremo a fare una cosa che Sei sicuro Samo? No Neanche io Abbiamo visto un video di barba scura e abbiamo deciso di emularlo Gli ho seguito amici qui assaggerando delle cose molto buone Tu sei qualaggiosa ma no? Io? Io no Dai Ragazzi diciamolo Stiamo per mangiare degli insetti Grilli, bruchi e quant'altro Al barbecue Buone Allora diciamo che questo sarà il primo video Il secondo lo faremo prossimamente Perché avremo cose ancora più inquietanti di queste Ma queste scadevano tra poco Quindi abbiamo detto Tra pochi giorni scadono Quindi mangiamo anche insetti quasi in scadenza Pensa quanto siamo coraggiosi Guarda mi sto quasi convincendo adesso Quindi se questo video vi piacerà ragazzi Faremo anche il secondo video con delle cavallette grosse così E non sto scherzando Abbiamo altri tipi di questi Diversi Quando andremo a Roma faremo anche il secondo video con i nostri genitori E forse anche le bimbe E i nonni Magari Boh Più 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 gente c'è La donna di mangiare Sì è vero Forse sì Pure mia nonna Faremo bene in sacco di gente Vediamo un po' Come andrà a finire quel video Comunque gli insetti saranno il cibo del futuro Sta scritto anche qui C'è un rapporto Come non fidarsi con il bugiantino Perché dice che devi comprarla questa roba C'è il 60% di proteine Quindi per chi fa bodybuilding Questi insetti Il problema è che sono felitti Quindi poi si sfalto da due E poi costano fotti io Quindi Non è che Costa più delle proteine In polvere Allora questi sembrano buoni Perché sono ricoperti da cioccolato Ma dentro ci sono i grilli Ma non si vedono Però poi lo apriremo E vi faremo vedere il grillo Prima lo mangio Ma non lo mangio più Ha visto cosa Raga guarda che cazzo sto facendo per voi iscritti Guardate Che culo Cioè Mi buttano le bocca direttamente Dovrai avere 100.000 iscritti per ste cose No Mi sono comprato pure una carina Guardate quanto so bravo No ti vengo risparmi Veniti Poi quando imparerò ragazzi Vengono un sacco di belli Ma sono sflosso Il computer sono sflosso Mettete un bel mi piace Perrello carina Non mi piace Ci sono i grilli qua dentro Non lo rile Non lo voglio sapere Allora Aspetta Tutto insieme E masticare Che ne pensi Dai lo faccio chiedere Quindi Dai Voglio dirlo Sembra buono Allora La d'ergua Il cioccolato Vabbè la panina di cioccolato Allora Ragazzi io direi che lo facciamo tutti e tre insieme Certo Eh quello so di Dove sto piccolino Sei pronti? No Aspetta aspetta Chi dà il tempo? Voglio la coca aspetta No la coca La coca cola Paura Aspetta Che schifo Uno Due Tre Non fai di grillo Non fai di cioccolato Che schifo A lei non gli piace il cioccolato Adesso Cioè come lo operiamo Prendi un contenitino Si può anche spezzare Ragazzi hai mangiato un grillo Dai non è male dai Non è male È male Ma non si rimangiano Tranquilli Dove è che tu sta? Ma hai preso tipo Poi c'è quello di quelli zuccherati? Cioè io questo mi sono mangiato Sì Aspetta vi faccio vedere ragazzi Questo l'è un grillo Eccolo Per farlo vedere Eccolo qui Ah Questo è quello che stava detto Che buono Ma mangialo così adesso Mettile in bocca e mangialo Dani Dai dopo aver mangiato il primo Comunque Ma non è male C'ho meno paura adesso Com'è? No Non è male Non è male Sono buoni Sono buoni Sono buoni raga Cioè ragazzi Questi sono veramente buoni Oh se non mi piacesse il cioccolato Se piacesse rimangere anche io Ma Ci dovrebbero pagare quelli degli insetti Sì Sono buonissimi Ma mio dio che buoni Però avete visto che cacchio di insetto era Era un coso così eh Adesso la mette più difficile Guarda se si è fatto sul cioccolato Allora questo 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 è brutto forte ragazzi Guarda Doe cazzo sta Mamma mia Questi che sono? Sono la salsa baby Mamma mia Con l'acquolina in bocca Che sexy Che schifo Ma che era quello? Questi sono Vemmi e Grilli Questi sono quelli che stanno dentro Io sento l'odore fino a qui Ma è smosso tipo un po' così Ho venuto una sbamba È il barbecue questo Qua adesso Col cucchiaino Perché? Come col cucchiaino Guarda che te fumi Uno per uno Non fa male a nessuno 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 No no Dai muoviti Muoviti Fa male così Buona Ormai Stiamo in barca No? Eh sì Stiamo in barca Oh ci sono fitti di cucchiaini Mi dispiace ragazzi Stavolta Ah Dietro Mamma mia Vado pronti Vai Manno un po' di tutto Pronti? Sei pronti? Oh dai Dal tempo Sì sì Ma papà scrivo pure a voi Ti dà Sì Io non mi guardo Guarda guarda che faccia Eh Perché mi si Li guardo E sempre che si muovono È pazzo Mi guarda dei piccoli brividi Sembra un po' piccoli brividi Guarda quanti me ne sono messi ragazzi Sto che mi ha sotto Che schifo Sei persi? No Ma per la testa C'è scritto se la testa Sì sì C'è la testa Carissimo 3 2 1 Vai Dai non fanno schifo Tipo patatine Magari però Magari però non al barbecue Non serve un tipo di plastica Ti fa che ascai vermi addosso Ma dove provo? Se sai che stai mangiando Sto roba 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 Non so 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 Niente Sto di burro e cacao Mangia di burro e cacao Sto di questo Mi facevano schifo all'inizio Vendole dopo Vende mangi Uno ti abituai subito Non ce l'hai tanto Ti abituate A Sì Quando sarai grande Quando non ci saranno più Gli animali Mangeremo solo sta roba E mangi poco sciardi Poi è vero Vabbè ragazzi Io direi che L'esperimento è andato a buon fine Mettiamogli un bel Allora Ve li consiglio Sì Quello al cioccolato Quello al cioccolato Gli diamo un bel lozzo Sì Come fosse il cioccolato senza niente Questi sei Però so buoni Potete fare gli schiesti agli amici Gli schiesti Fate mangiare E poi li fate vedere Che l'altro sono No veramente No no Fatti Oh beh è geniale E' loro Ah è grande Ok ragazzi Mi sto sfruttando Se questo video Gli è piaciuto Mettete un bel mi piace Commentate Condividete Lo sento che semmo Avevo qualcosa in bocca Sono tornata in vita Mettete un bel mi piace Commentate Iscrivetevi Noi ci vediamo come sempre Ad un prossimo video Fate bravi Ciao 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 Ciao